Buongiorno! Come faccio il corso Cerea 3? Vengo a Piemontesa Prima parte All'era lezione quarta questa Perché la vi obiettava Quella che noi fai la smanga passata E la vi obiettava quattro Se non sbagliamo, scusami All'era tre Allora cosa che hai fatto io Quattro quarta Questa sì All'è quarta lezione E la prossima Aserà la quinta E vi tu matita posto E la prossima con la quinta lezione Esta è la verdadera quarta Por eso 2 x 4 Prima parte Buongiorno a Piemontesa E le vi falo Eh? Sì, ne? Allora Quante mi chiamo All'erroi parolini Che toccava vitae al suo posto Sì? Me nonno Guardate? E noi non chiamo Una bella persona Osea, quando chiamo al nonno Non chiamo a una persona Anziana Vieja E noi non chiamo a una bella Aranda Quiero tener cerca Atenzione Aranda Aranda Cerca Quiero tener cerca Aranda 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 Cosa Aranda Aranda il buon vino il buon vino se ha le vei e gli amici se sono sinceri il vino buono si è viejo e gli amici sono sinceri e io credo di sinceri a vita il plurale ma il plurale è parello se sono sinceri è l'italianismo è più italiano non è più molto tese il primo momento della vita le parole che toccate le parole che c'erano sotto le parole che stavano sotto le potevano in suo lugar e seguiamo parliamo un po' sul vocabulario due parole nono guardate la famiglia parliamo a pagina 43 del nostro libero nono ha detto che pare grande è grande nel piemontese ma è corretto il nono seguito ma allora in questa quarta lezione seconda parte in cui un des d'agosto 2022 e in un cammin a parlare sul vocabulario della famiglia sul libero pagina 43 re retoma bin come casdizu queste parole si las palabras que hablan nombrano a los miembros de la famiglia quando son diferentes la palabra que nombra al masculino y la palabra que nombra al femenino come in castellano papà mamà si andora in un cammin a parlare la parola nonu casdiz che me che è mi nono me pare grande è un algo molto interessante questo vocabulario pare grande significa mi papà mayor che sarebbe nono bella me grande è anche molto 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 dicir me grande mi mayor al nono casi no se puede traducir era del nono es el abuelo la nona mare grande mi madre mayor grande mi mayor ella la persona mayor belle parole me sei cosa del me sei il suegro también una palabra muy linda muy digna señor dice me pare me sei papà señor o il señor papà il suegro che buona che buona buon trato hacia il suegro e madonna o mare madre madonna mia madre madonna mia madonna acca che buona che buona che buona avanza cacarpa la panza o mei che roba avanza cacarpa la panza che significa antes di che algo sobre che reviente la panza e seguiti alla prossima parte e andiamo avanti alla terza parte questa lezione il dita l'era per anche che stava anche oggi pitos che roba avanza cacarpa la panza e parlano sul vocabulario e parlano sul profittum e cussidi per parlare in potenza la gramatica che è importante pitos miren acá un adverbio se acuerdan los adverbios sono parole invariabili che accompagnano al verbo al adjetivo e le dann un significato questo è il adverbio del tempo o del modo antes di che si? passe algo pitos tos e adverbi voi levi a questa pagina utanta neu fijense che ahi hai muchos adverbios è infinito infinita la cantidad di adverbios che hai ma traballiamo con il verbo il verbo a pagina tantacese e anche il primo presente di verb ad indicativo il presente del verbo se acuerdan la escuela io canto tu cantas el canta o ora ora si permite tambien vos cantas eh nosotros cantamos etc e varbi per esempio il verbo avanza avanza sobrar il verbo sobrar avanza antes di che sobra algo eh che la panza reviente e varbi il presente mi vanzu mi vanzu pan per esempio me sobra pan eh es una manera diferente di usar il verbo sobrar in piemontese eh mi tit vanzu set pan che tambien se puede omitir la tit vanzu pan eh e kiel avanza et pan noi vanzu ma pan voi vance pan lura avanza pan el model eh per traballer con sverbo voi le ve la pagina set eh guarde ve si ans el liber eh mi parlo tit parla kiel parla noi parlo ma voi parla lura parlo una roba importante e la dice en spagnol los pronombres los pronombres en el piemontese se manejan de una manera especial yo canto tu cantas el canta en piemontese mi canto es como si se repitiera el pronombre este pronombre que se llama verbal nunca se debería debería omitir e andu manan e pasuma per fin a la cuarta parte e gusta lesión care lesión numer 4 eh traballo un po i verbo scrivo ma i ver desmentia desmentia vamos a escribir los verbos olvidados el primer verbo desmentia alevanse el verbo sobrar hay que escribirlo como corresponde tu cabita y bita y que ven psico manco como acaban eh vuoi guarder ser liber si leve a os pies liber né guarder la prima frase se toque pan lo mangiuma domani cussi ilo funmi eh se van si se van summa toque pan lo mangiuma domani hai que poner el verbo se van summa eh noi perché aleman jumma di quante mi poca roba manja la manja me frey feria mi hermano tutti lo manqué noi altri eh hacer viradop de lo manqué noi puduma lascelo ai pover e se ti manca il verbo troppa roba damla a mi e il verbo kerpe trabajan tambien un po questo verbo eh a le panse mmm se mangiuma tro si comemo mucho che passa le panse evituma il verbo pe mi eh se mangio troppa bagna quando mi parlo bagna allora la bagna cauda ne che farei se ci eh se la borsa se la borsa è troppa piena e manca il verbo perché se manca falta il verbo che hai che ponerlo in forma corretta si eh si le idee che non mancura post per di te due cite frasi de eh vamos a ponere la de della ultima parte quanché tropp quanché tropp mangiuma bim prest eh quanch quanché tropp 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 to ma mangiuma top i mangiuma